Ciao ragazzi, qui ti è, qui ti è Regis, qui in un nuovo video, oggi ragazzi questo è mini mini vlog, è tipo mini vlog, povero, alvisalvi che, non lo so, il 31 dicembre andrò a Calermo, così andrò a giocare con il computer a Minecraft e vi posterò su un video ragazzi, vi posterò il video e giocheremo a Minecraft e GTA 5, oppure tutto molto con la PlayStation 3, ragazzi questo video è terminato, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi, ciao da Piero